ma smetti di scaricare la roba ma non sto scaricando niente cazzo ma è una sporca oh no al tappato per guardare perchè mi avete messo dubbio non sto scaricando cazzo c'è già un cadavere aspetta però aspetta no mi sa che era questa cosa ehm ok ok chiedo scusa c'era una cosa c'era una cosa effettivamente no mi stava facendo un update di una roba eh no ero un po' già non era chi sei tu io ti sparo chi è romeo romeo uccidilo 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 ti avrei potuto uccidere non l'ho fatto eri tu eri tu lo stai facendo che mi manca clamorosamente si è qua clamorosamente dove è andato clamorosamente gli sta impedendo di prendere il coltello e senza il coltello non vedo più un cazzo mi è sparito il coltello senza coltello andiamo a ucciderlo dov'è che è ma chi è romeo eh chi è romeo 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 perché sei tu romeo a tu cazzo stai che ti sparo faccia andate nel palco ho fatto il giro eccolo questo pezzo di merda ti prendo la selciata in faccia no ti ho sparato su un piede ti ho visto sanguinare dove sei coltello dove sei no fermati e muori muovi la compiacenza di morire con onore figlio di puttana no ahahah ahahah ahahahah ahahahahahahah ohhehehehhh ahahahahahahahah che un atta la sul fa bene no che è un' atta ma sono tutti grande vince questa è stata una grande scena notes